Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. A Catania la polizia ha effettuato dei controlli nel quartiere San Cristoforo, controlli che hanno portato all'arresto di un 45enne che era ricercato. L'uomo è stato condotto in carcere. La polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo attivamente ricercato perché colpito da un provvedimento di ricerca e cattura. Il quartiere San Cristoforo è stato interessato da un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal questore di Catania. Le attività su strada sono state coordinate dal commissariato di zona e hanno visto impegnate diverse pattuglie del reparto prevenzione crimine. Sono stati effettuati numerosi controlli e contestate decine di violazioni al codice della strada. Sono stati anche denunciati in stato di libertà due sorvegliati speciali che non sono stati trovati presenti nel loro domicilio. Nel corso dei capillari controlli è stato identificato un pregiudicato 45enne il quale risultava da ricercare perché colpito da un provvedimento di ricerca e cattura emesso poche settimane addietro dalla Corte d'Appello di Caltanissetta a seguito delle reiterate violazioni della sorveglianza speciale. L'uomo è stato immediatamente arrestato e dopo le formalità di rito è stato associato presso il carcere di Piazza Lanza. Un 48enne è stato invece arrestato e condotto in carcere a Siracusa. Vediamo perché. I carabinieri della stazione di Siracusa principale hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni del luogo in esecuzione di un provvedimento emesso dall'ufficio di sorveglianza di Messina. Il 48enne è condannato per estorsione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e detenzione abusiva di munizionamento, reati commessi nel 2015, aveva ottenuto la misura alternativa dell'affidamento terapeutico presso una comunità nel messinese ma si è allontanato arbitrariamente dalla struttura, abbandonando così il progetto. Pertanto l'ufficio di sorveglianza di Messina ha emesso un provvedimento di sospensione del beneficio. I militari dell'arma hanno rintracciato il 48enne nel centro abitato e dopo le formalità di rito lo hanno trasferito presso il carcere Cavadonna di Siracusa. Ci spostiamo nel Trapanese a Castelvetrano dove un uomo invece finito in manette i carabinieri lo hanno sorpreso a minacciare la madre con un coltello. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno arrestato un trentenne con precedenti di polizia per minaccia aggravata dall'uso di arma bianca e violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. L'uomo, alcuni giorni addietro, era stato sottoposto dal GIP del Tribunale di Marsala, su richiesta della locale procura, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre e all'allontanamento dalla casa familiare in quanto accusato di atti persecutori nei confronti della donna. Nonostante la misura cautelare, secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo sarebbe stato sorpreso dai militari operanti mentre minacciava la madre brandendo un coltello. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio, considerato il forte stato di alterazione psicofisica del trentenne, che è stato immobilizzato e arrestato mentre il coltello sequestrato. Il giorno dopo il GIP del Tribunale di Marsala ha emesso un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare disponendo per il trentenne gli arresti domiciliari. A seguito delle formalità di rito, l'uomo è stato ristretto presso la propria abitazione. Torniamo a Catania, parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti e dell'arresto effettuato dalla polizia di un 27enne pusher. Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'ordinario servizio di controllo del territorio, una volante in transito nella zona dei villaggi della Playa ha notato un sospetto via vai di persone nei pressi di una palazzina. Gli agenti, pertanto, dopo aver individuato con esattezza l'appartamento oggetto degli strani movimenti e avendo il fondato sospetto che all'interno dello stesso potesse trovarsi della droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare d'iniziativa. All'interno dell'edificio, gli agenti hanno identificato cinque persone, tra cui il proprietario, un incensurato di 27 anni. La perquisizione ha permesso di rinvenire, ben occultati all'interno di un armadio in camera da letto, cinque panetti di cocaina del peso di circa 900 grammi ciascuno, quattro buste contenenti anch'esse cocaina per un peso complessivo di 4,8 chili, oltre a vario materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. Alla luce dei fatti esposti, l'uomo è stato condotto in questura in stato di arresto e dopo le formalità di rito, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. E sempre a Catania sono scattate le manette per un 46enne che si trovava ristretto ai domiciliari, ma che aveva allestito una sorta di officina, ovviamente abusiva, in cui assemblava pezzi di scooter rubati. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo di Catania hanno arrestato in flagranza un 46enne catanese già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altri reati per ricettazione ed evasione. Al riguardo i militari dell'arma, nell'ambito di una mirata attività info-investigativa volta al contrasto del mercato nero, della ricettazione di motocicli rubati o di parti di essi, hanno appurato che l'uomo aveva allestito un'officina abusiva a cielo aperto lungo il marciapiedi adiacente alla propria abitazione, nel quartiere Picanello di Catania, dove si prodigava a smontare e riassemblare parti di scooter provento di furto. In particolare, la 46enne smontava completamente i mezzi cambiandone le carene, la targa e le varie componenti meccaniche ed elettriche, facendo così in modo che i ciclomotori non fossero identificabili se controllati su strada dalle forze di polizia. Nel corso dell'azione repressiva, al momento del blitz, i carabinieri hanno quindi trovato otto motocicli parcheggiati dinanzi l'abitazione del pregiudicato, mentre un nono scooter, completamente smontato, era invece occultato in maniera sospetta nell'androne dell'abitazione dinanzi alla porta d'ingresso di casa sua al piano terra. Come in un puzzle, i militari dell'arma hanno pertanto provveduto a recuperare tutti i pezzi del mezzo che erano sparsi in terra, forcella, ruote, contachilometri analogico, marmitta, sellino, manubrio e pedana. Questo controllo approfondito ha così permesso di accertare che quello scooter nascosto era stato rubato lo scorso 3 settembre a una signora catanese di 45 anni. All'interno dell'appartamento dell'uomo è stata poi ritrovata anche la targa del veicolo a due ruote, mentre le carene originali di colore nero opaco, come descritte dalla denunciante ai carabinieri del comando stazione di Catania Ognina, sono state invece trovate montate su uno dei ciclomotori parcheggiati in strada, chiaramente un altro scooter, che è risultato di proprietà del meccanico abusivo ricettatore. In considerazione del fatto che il pregiudicato è stato trovato fuori dalla sua abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari e del fatto che nella sua disponibilità aveva un motociclo provento di furto, lo stesso è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, prevedendo per lui la misura della custodia cautelare nel carcere di Catania a Piazza Lanza. Una denuncia a Biancavilla nel Catanese si tratta di un 37enne che ha incendiato l'auto del suo rivale in amore. I carabinieri del comando stazione di Biancavilla hanno denunciato un biancavillese di 37 anni per il reato di incendio doloso. L'uomo stava affrontando la separazione dalla compagna, la quale gli aveva confidato di nutrire sentimenti per un'altra persona, quindi invece di tentare di esaminare quelli che erano stati i suoi comportamenti all'interno della coppia e fare il punto su ciò che aveva portato alla loro rottura, ha ben deciso di vendicarsi del rivale dando fuoco alla sua autovettura. Quindi, dopo aver individuato l'abitazione di quello che reputava un avversario in amore, ha riempito di benzina una tanica di plastica da 10 litri e durante la notte si è diretto nella via dove era parcheggiata l'auto nel centro storico. Dopo aver cosparso di benzina il veicolo, ha appiccato il fuoco, lasciando sul posto la tanica e fuggendo per le vie limitrofe. Il piromane tuttavia non ha fatto i conti con le numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che invece i carabinieri intervenuti hanno subito esaminato. Proprio dalle immagini dei filmati, i militari dell'arma hanno ricostruito gli eventi e l'autore della plateale gesto, una persona abbastanza nota in paese per la gestione di attività commerciali. Il giovane è stato denunciato a piede libero e adesso, oltre all'allontanamento dalla compagna, dovrà affrontare anche un processo penale. Cambiamo argomento, parliamo di treni. Sono stati conclusi i lavori su quattro tratte siciliane. Il servizio. Grazie agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico operati quest'estate da RFI, la rete ferroviaria siciliana non è soltanto più efficiente e sicura, ma si pongono le basi per un potenziamento ulteriore in vista di uno sviluppo dell'intero sistema dei collegamenti nell'isola. Grazie agli investimenti massicci previsti nei prossimi anni e alla realizzazione del ponte sullo stretto. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla mobilità Alessandro Aricò in merito alla conclusione dei lavori per il potenziamento e la manutenzione delle tratte ferroviarie fra l'Ercara di Ramazione e Agrigento Centrale sulla linea Palermo-Agrigento, fra Gran Michele e Caltagirone sulla linea Catania-Gela, fra Caltanissetta Centrale e Aragona-Caldare sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Canicatì-Agrigento e fra Canicatì e Gela sulla linea Canicatì-Siracusa. La regione, ha aggiunto l'assessore Aricò, vigila costantemente sull'avanzamento e sul rispetto dei tempi dei lavori alla rete ferroviaria. Lo sviluppo delle ferrovie è strategico nell'ottica di dotare la Sicilia di una rete di trasporti adeguata a garantire il diritto alla piena mobilità dei cittadini e a favorire la crescita del turismo. Per questo motivo siamo pronti, come sempre, a fare la nostra parte al fianco di RFI, ha concluso l'assessore Aricò. Ed ora una bella intervista del nostro Mauro Romano, che ha intervistato il soprano Elisa Moschella, la quale ci ha raccontato l'esperienza vissuta nei panni di Santuzza nella Cavalleria Rusticana. Sentiamola. Il soprano Elisa Moschella in questi giorni ha interpretato Santuzza nella Cavalleria Rusticana. Un grande successo, ma qual è stato il palcoscenico che l'ha vista protagonista? Allora, ci ha visto protagonisti, praticamente un palcoscenico bellissimo, anzi, due palcoscenici bellissimi, naturali, due piazzette splendide di due paesini vicini proprio al luogo in cui è stata in realtà ambientata proprio la Cavalleria Rusticana, che è Vizzini, e sono uno Santa Croce Camerina e l'altro Monte Rosso Almo. Due paesini splendidi in cui si respira ancora un po' l'aria proprio della Cavalleria. Un soprano che ha interpretato Santuzza. Cosa si prova a interpretare un ruolo così forte, così bello, in una Sicilia che le ha fatto da palcoscenico? Beh, è abbastanza impegnativo, sia vocalmente, ma soprattutto emozionalmente. È veramente difficile non lasciarsi prendere da questo personaggio così dibattuto, così emotivo, così travagliato interiormente. È una cosa veramente splendida poter interpretare una creatura così tanto siciliana proprio nello spirito. È veramente, veramente una grande emozione. sia la musica che anche il fatto di essere molto coinvolti nella recitazione, perché nella Cavalleria è importantissimo anche il fatto di sapere recitare in un certo modo per rendere questo personaggio così forte nel modo giusto. Quali saranno i suoi prossimi appuntamenti? Eh, bellissima domanda. Molto probabilmente ci sono nell'area dei progetti per fare sia dei concerti solistici che qualche altra opera, ma per ora non posso parlarne. Potrebbe esibirsi magari al Teatro Antico di Taormina? Non posso parlare, però altre piccole cose dovrei farle, sì, sì, anche a Taormina. Il calcio con le parole del calciatore del Palermo Nicola Valente ai canali ufficiali del Club Rosanero. Essere giocatore che è da più tempo qua a Palermo mi inorgoglisce molto. Vuol dire che comunque alla città e alla squadra ho dato qualcosa. Io sono felicissimo di essere qui da tutti questi anni e spero di proseguire ancora. Penso che chi scende in campo con questa maglia non abbia bisogno di tanti stimoli per onorarla al meglio. Diciamo che essere a Palermo è un vanto per ogni giocatore che è qui e lo è anche per me. Io comunque in tutti questi anni ho cercato di dare il mio contributo in qualsiasi momento, anche magari avendo delle mie difficoltà, magari nel percorso, a livello fisico, a livello anche mentale in alcuni momenti. Però insomma sono contento di aver fatto tutto ciò. Come detto in precedenza dal mister, dal direttore, in squadra nostra ci sono solo titolari e ognuno di noi si deve sentire tale perché comunque le squadre che vogliono e cercano di fare un campionato di vertice come quella nostra deve avere questa mentalità. Ogni giocatore deve essere disponibile e sentirsi titolare. Noi dello zoccolo duro degli scorsi anni abbiamo sicuramente dato una mano, magari ai nuovi arrivati, ma comunque non hanno sicuramente bisogno di ambientarsi solamente grazie a noi perché comunque sono giocatori che anche a livello caratteriale sono di carattura alta e quindi insomma siamo felici di averli con noi perché comunque alzano moltissimo il livello della squadra. Sette punti in tre gare è un bottino bello importante, però comunque non dobbiamo comunque adagiarci su questi risultati, anzi ci permettono sicuramente di lavorare meglio, con uno spirito migliore e quindi per proseguire la stagione nel migliore dei modi. Durante il mio primo anno a Palermo sono stato uno dei primi giocatori a venire qui a Torretta e vedere adesso tutto questo centro sportivo che si sta costruendo pian piano è un orgoglio, è un orgoglio anche personale insomma entrarci ed essere uno dei pochi giocatori rimasti qui a Palermo a poter allenarmi qui. Adesso il nostro modo di lavorare è totalmente cambiato rispetto agli anni scorsi perché comunque questo centro sportivo bellissimo ci sta dando la possibilità di lavorare tutti assieme perché mangiamo qui, ci alleniamo qui, insomma ci dà anche la possibilità di stare più tempo assieme e di conoscerci meglio, di fare gruppo e sicuramente lavorare al massimo. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.